Commento dal Vangelo secondo Luca 20, 27, 38. Dio non è dei morti, ma dei viventi. Gesù viene provocato in uno scontro con alcuni sadducei su una donna che prende sette mariti, tra cui erano vari fratelli, chi poi avrà in moglie questa donna, una volta tutti risorti. Peccato che i sadducei non credessero nella risurrezione, a differenza di chi stava approcciando questa nuova disciplina, quali farisei, quale appunto anche Gesù Cristo. Tanto è vero che qui subito risponde in maniera straordinaria, proprio sostenendo la tesi di una vera risurrezione. Ma una vera risurrezione che non è nei canoni umani, dove chi si sposa con quello e con quell'altro non entra fortemente in questa tematica, per cui non ci svela niente, al contrario di quanto a volte pensiamo che mia moglie non rimarrà con me in futuro. Questo non ci è detto. Gesù voleva far capire che la risurrezione è da intendere in maniera completamente diversa secondo canoni divini e non i canoni umani. Sennò tutto sarebbe ancora una volta uguale, ancora una volta matematica, e non un cammino di incontro, è un cammino di amore con Gesù, con Dio e con il nostro prossimo. Tanto è vero che Gesù cita questo, e ho letto qualcosa di Hermes Ronchi e mi ha suggerito questo passaggio, che è il Dio di qualcuno, perché è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Così risponde Gesù citando l'Esodo. Questo è il Dio di qualcuno, è il Dio di Gesù Cristo. Cioè è il Dio di qualcuno che ce lo testimonia, di qualcuno che possiamo incontrare. Non è una teoria, non è puramente un pensiero, un'idea, un idealismo, ma è un Dio vero, è un Dio che noi dobbiamo poter incontrare. E lo possiamo fare attraverso mille esperienze, l'abbiamo detto già settimana scorsa, ma soprattutto attraverso gli altri, attraverso le persone. E la prima persona è proprio Gesù Cristo che ce lo testimonia. E poi quando si parla di risurrezione mi è venuto solo un pensiero molto semplice. Tante volte non si riflette in merito a questo, perché forse fa un po' paura, o perché si vive bene anche senza pensare alla risurrezione. È come fare, magari un esempio stupido, ma è come fare un viaggio in treno o in auto. Nel momento in cui scelgo il treno, salgo sul treno e assomiglia un po' a non pensare che esista la risurrezione. Salgo sul treno, io posso fare tutt'altro, posso pensare a 1500 diverse cose e il treno mi porta a destinazione, la mia vita scorre così, senza che io abbia bisogno di averla troppo in controllo. Mi trascina un pochettino in un certo senso. Se invece sono in auto e sono io che guido, devo essere attento, devo essere presente, devo essere vigile, devo farmi delle domande, devo rispettare i segnali, devo rispettare le altre macchine, i pedoni. Quindi c'è una consapevolezza, una presenza, una vitalità totalmente diversa da chi ha la guida o da chi prende il treno o l'aereo. Questo è solo per dire che tante volte abbiamo la pigrizia e la non volontà di essere troppo consapevoli della nostra vita. Non parliamo della nostra anima e quindi del nostro futuro, il futuro prossimo. Però Gesù in realtà invece ci invita a prendere consapevolezza di questo, ma soprattutto di prendere consapevolezza che è il Dio dei vivi. E quindi Gesù parla al presente e ci dice che Abramo, Isacco, Giacobbe sono vivi. I nostri cari sono vivi. E Gesù parla infatti al presente perché pensa, perché crede pienamente che queste persone sono vive. E questo deve cambiare drasticamente la nostra relazione con Gesù, con Dio e con anche i nostri cari defunti e con il nostro futuro che verrà. Buona Domenica.